Musica Autofficina PRT che si schiera a 208 Turbo per il dovane Brega in copia con Albertazzi, eccolo qua. Il pilota parese, giusto? Figlio d'arte? No, no, no. Sei parente però di Massimo? Nemmeno, sono omonimo. Che cosa ci aspettiamo da questo bonzino? Ah, siamo qua per il pilota? Sì, ma guarda solo il pilota non può. Ci divertiamo? Ci divertiamo? Assolutamente sì, il Turbo mi aiuta, mi spinge, mi sospinge e quindi insomma il divertimento non può mancare, scuderia, piloti oltre posti. Andrea Brega, Mario Albertazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.